Buonasera, benvenuti alla Casa Italiana Zellini Marimò della Miracle University. Grazie. 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 un articolo di Frank Bruni su New York Times in cui si prende la posizione, come dice questo povero paese, bellissimo, ma disperato. Frank Bruni io al massimo rispetto, perché è stato un corrispondente molto stimato per New York Times a Roma, però si basa più su impressioni, su un suo modo di vedere la realtà. Le persone serie come i nostri amici e colleghi del CER si basano su dati precisi, statistici, raccolti con precisione e con sistematicità. Per cui questi sono i motivi che ci spingono a presentare questo rapporto e ad essere molto contenti di farlo. Il panel di stasera è composto dal professor Lelio Gliapadre, che è professore di economia all'Università dell'Aquila e economista capo del CER. Gianluca Clementi, che è un collega professore associato di economia qui alla New York University Sturm School of Business. Il dottor Ricotta, che è il vicepresidente di LASAR e saranno coordinati dal dottor Fantacone, sempre del CER. A lui do il microfono e la parola. Grazie. Grazie mille. 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 italiana e ovviamente sulla economia europea. E appunto con alcuni dei nostri consulenti academici, in particolare con Mario Riopatra, oggi con noi e con Paolo Bertieri che invece è stato trattenuto in Italia dalle votazioni al Senato sulla legge finanziaria e comunque dalla preparazione della discussione sulla legge di stabilità, abbiamo pensato di lanciare, di lanciare e dedicare un gruppo di ricerca, un progetto di ricerca proprio a queste tematiche dell'internazionalizzazione. Perché? Perché crediamo che questo sia un elemento centrale in questo momento per l'economia italiana, lei mi spiegherà meglio di quanto possa fare io perché pensiamo questo. E comunque, soprattutto, fra le tante cose che vorremmo fare è anche quella di superare una visione che invece in questo momento in Italia è molto diffusa, ossia siccome a causa della crisi non c'è più domanda interna, sono niente di più facili che sostituire domanda interna con domanda estera e andarsi quindi a espandere sui mercati internazionali. Ovviamente il passaggio non è coseggevole, soprattutto per una struttura produttiva come quella italiana, molto fondata su piccole e medie imprese e molto fondata sulla prevalenza dei mercati locali. Fare un salto nell'internazionalizzazione significa, ma appunto questo ripeto lo spiegherà meglio lei, fare un salto proprio nelle modalità organizzative della struttura produttiva italiana e quindi diventa un passo per un avanzamento molto più sistematico dell'intera nostra struttura produttiva. Quindi prima di dare la parola all'aria volevo però richiamarvi anche alcuni dati di contesto macro che spiegano anche perché l'importanza di questa riorganizzazione produttiva. in cui brevemente vi racconto il passato recente della nostra economia, quello che è il presente e quello che è il futuro che abbiamo davanti. Lo faccio brevemente, concedetemi nella sintesi che faccio che sarà in qualche modo ovviamente approssimativo. Allora il passato recente, qui abbiamo fatto un altro rapporto in cui abbiamo utilizzato i dati messi a disposizione dalla Banca d'Italia su 150 anni di storia economica italiana, cioè dall'unificazione d'Italia a oggi, dal 1861 ad oggi, e questo ci ha consentito di isolare questi 150 anni di storia quelli che sono i più importanti episodi di recessione dell'economia italiana. E di confrontarli quindi con l'episodio che ci stiamo lasciando alle spalle. Cinque episodi che abbiamo identificato. Sono quello che inizia nel 1866, cioè subito dopo la non fortunata esperienza della terza guerra di indipendenza contro l'Austria. Quindi un episodio che risale diciamo ancora alla fine del nostro risorgimento e all'inizio del periodo dell'unificazione italiana. Un secondo episodio è quello che ovviamente è legato al 1929, quindi è tutta una grande repressione statunitense e tedesca e in generale del mondo di allora. Poi ci sono due recessioni della dopoguerra, quella del 74 che ha seguito l'Ori-Shock e quella del 92 che ha seguito la crisi del sistema monetario europeo e che ha avuto fra le conseguenze l'espulsione della lira del sistema monetario europeo. E poi abbiamo questa recessione che prende avvia nel 2008 dopo il collapse di Lehman Brothers e che però poi in Italia e in altri paesi europei prende una storia tutta sua che è diventata una tabula di recession e quindi è diventato questo animale con cui è molto difficile avere a che fare che è diventato. Allora confrontando questi episodi a cosa serve? Serve ad acquisire consapevolezza di quella che è la situazione in cui siamo scivolati. Una consapevolezza che noi non stiamo diciamo con insistenza anche diciamo alle autorità istituzionali di cui siamo consulenti in Italia. Una consapevolezza che serve per capire qual è l'urgenza di adottare alcune politiche per appunto rilanciare le nostre ore. Allora due grafici vi faccio vedere. Uno è questo, che confronta in queste cinque recessioni in termini di durata che definiscono come il numero di anni necessario per ritornare al valore produttivo precedente alla recessione. Allora vedete già da questo grafico che probabilmente la nostra recessione di oggi non ha confronto. Secondo le nostre stime, perché appunto ancora non sappiamo quando torneremo ai livelli pre-recessivi, ci vorranno non meno di 12 anni per tornare ai livelli di qui del 2007. Un dato che si confronta con quella che allora, che fino a questo momento era stata la recessione più lunga, cioè quella del 1866, quando ce ne volerò 8 gli anni per tornare a livelli pre-recessivi, e quella del 1929, in cui invece ce ne volerò 6. Vedete pure che niente a che vedere la recessione di oggi con le altre recessioni post-war, perché lì bastavano due anni, quelli furono episodi veramente ciclici, c'era una caduta e poi un ritorno ai trend di crescita precedente. Questo grafico fa lo stesso confronto, confrontando le recessioni però in termini non di durata ma di intensità, cioè poi è stata la perdita accumulativa di output che abbiamo subito durante questa recessione e poi è stata quella che abbiamo subito nelle recessioni precedenti. Allora anche qui il confronto è in qualche modo impietoso. Alla fine del 2013, quando noi pensiamo che la recessione si chiuderà anche ufficialmente, conteremo 8 punti e mezzo di caduta di PIL rispetto ai valori del 2007. Questo si confronto con quella che era la massima caduta precedente, che era quella della recessione degli anni 30, in cui ne perdiamo 5 di PIL, ne perdiamo 4 nella recessione del 1866, ne perdiamo molto di meno 2, meno di 1 nella recessione del 74 e del 92. Quindi per durata e per intensità quella di oggi è la recessione più grave che noi abbiamo registrati nel corso della nostra unità politica. La chiamiamo infatti, la chiamiamo in questo paper come The Greatest Recession Ever, un po' per contrastare, sapete che la letteratura si riferisce alla recessione internazionale che ha seguito di Lehman Brothers come The Great Recession, dove invece è la Greatest Recession, cioè qualcosa di ancora più grave di quello che è stato per gli Stati Uniti o in genere per l'economia mondiale. Allora, quindi questo è il passato del guerriamo, il presente qual è? Allora se mi chiedete se l'Italia sta uscendo dalla recessione, se parlate in questi giorni dell'uscita dalla recessione della Spagna, se mi chiedete se anche l'Italia sta uscendo dalla recessione, se anche l'Italia nel 2014 registrerà un saggio di crescita positiva del PIL, la mia risposta è sicuramente affermativa. La recessione probabilmente ufficialmente, poi la vedremo però, si chiuderà nel terzo trimestre del 2013, a meno di non avere la documentazione di sorprese negative, e nel 2014 il PIL dovrebbe tornare a crescere. Vi do invece una risposta di tipo negativo, se mi chiedete se le prospettive di crescita che abbiamo di fronte possono essere ritenute soddisfacenti. In questo caso la risposta è assolutamente negativa, il passo della ripresa al momento è ancora troppo. Allora questo ve lo riposto con un grafico. Primi F5 che va a schermo pieno. Ah scusatemi, non l'avevo visto perché... Certamente così si... Vabbè questo... No, 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 no. Questo è il nostro leading indicator per l'Italian GDP che praticamente simula, traccia la dinamica pensile del PIL italiano. Vedete che l'indicatore già misura l'inversione della fase recessiva praticamente nell'ultimo trimestre del 2012 e poi misura, segnala questa lente risalita verso la zona dell'espansione che però è al di sopra della linea dello zero. Questo è l'ultimo dato che ho finito di elaborare oggi con i dati diffusi ieri dall'Istat sul fiuso delle imprese, disoccupazione e altro, in realtà è un po' meno positivo di quello che ci aspettassimo, però la tendenza ormai sembra piata e fra l'ultimo trimestre, gli ultimi mesi del 2013 e i primi mesi del 2014, finalmente questo curvo dovrebbe ritornare nell'area dell'espansione quindi segnale di ritorno dell'Italia in una fase ciclica espansiva. Però il tempo che stiamo impiegando per tornare dal picco della recessione alla zona dell'espansione è appunto uno degli elementi che ci dice quanto ancora il passo della ripresa sia esitante. E questo ci conduce ovviamente al futuro, a cosa ci aspetta in futuro. Allora, le nostre previsioni sottolineano un punto sostanzialmente, che se le tendenze rimangono queste, se l'inerzia rimane questa, la perdita di prodotto che abbiamo subito durante la recessione di cui abbiamo messo la prima non sarà recuperata in un orizzonte di mediterraneo, cioè in un orizzonte compreso tra i 4 e i 5 anni. Secondo la nostra valutazione, in effetti, alla fine del 2017 noi avremo recuperato soltanto metà del prodotto perso tra il 2008 e il 2013. Quindi un passo ancora molto retto. In sostanza riteniamo che anche per la distruzione di capitale e di lavoro che ci sarà durante la recessione per il potenziale, il potenziale dell'Italia sia ancora molto basso e rischi di rimanere molto basso per un certo numero. Allora, tutto questo per dire cosa? Non per dare una visione pessimistica, ma come dicevo prima per, diciamo, sottolineare l'urgenza dell'azione, cioè la necessità di trovare, concordare politiche che possano essere in grado di dare invece una spinta supplementare a questa inerzia di crescita dell'Italia. Qualche cosa che quindi ci permette di parlare, e non necessariamente fra molto altro perché poi, diciamo, il passo può essere anche, se le politiche sono corrette, può essere anche realizzato in poco tempo, di parlare non semplicemente di una ricovera, cioè di una ripresa, quindi qualche cosa arrivando ancora a sostanzialmente a un fenomeno civico, ma di una vera e propria ricostruzione delle capacità di crescita dell'Europa, dell'Italia, scusate. E uso ricostruzione un po' con intenti provocativi, di provocazione avendo in mente la ricostruzione post-guerra, per esempio ovviamente noi non veniamo da una guerra, ma come vi ho fatto vedere veniamo da un periodo in cui è stata eccezionale l'istruzione di capacità produttiva. Allora, siamo di fronte a un evento straordinario, e da un evento straordinario si esce con scelte, con politiche straordinarie. Nel nostro rapporto eseguiamo anche alcuni, diciamo, esempi storici, però adesso non voglio ritornare qua. Però o c'è un movimento dell'intero Paese verso questo tipo di soluzione, oppure appunto con budget policies che poi ormai sono assolutamente ristrette nelle risorse che devono badare ancora più al controllo del saldo del bilancio che alla sostegno dell'economia è difficile pensare di andare a buttare. Allora, servono politiche in qualche modo innovative che aiutino a fare un jump, cioè un balzo alle prospettive di crescita della nostra economia. Riteniamo che questo balzo delle prospettive di crescita debba diventare il principale obiettivo della politica economica italiana, cosa che non è al momento neanche nel dibattito, in cui c'è invece un pericoloso, una pericolosa tendenza ad accontentarsi del fatto che comunque la ripresa è inviata. Però appunto questo, nella nostra puntazione, non è ancora sufficiente. Allora, naturalmente ce ne sono tanti libri di prendere, meglio ci dà delle indicazioni più precise. Vi vorrei però collegare su quello che faceva questo nostro progetto di ricerca sull'informazione e realizzazione. È nostra convinzione che un modo di ottenere questo balzo nella prospettiva di crescita sia indurre, facilitare, favorire un balzo nel grado di apertura dell'economia italiana. Per le ragioni che vi dicevo prima. Perché un balzo nel grado di apertura dell'economia italiana significa un balzo proprio organizzativo, di struttura produttiva, anche forse di atteggiamento con una serie di fenomeni in quali l'attrazione di risorse dall'estero e quant'altro. Riteniamo quindi che il rafforzamento dell'attività internazionale delle imprese italiane sia un elemento di questo balzo, che quindi le politiche in qualche modo dovranno essere orientate a favorire in ogni modo questo balzo. Le nostre analisi ci dicono, ci segnalano, questo è molto importante, che effettivamente il comportamento internazionale delle imprese italiane mostra importanti segnali di vitalità, cioè ci sono importanti segnali di novità su come le imprese italiane si stanno ponendo all'estero, su come in qualche modo il modello di specializzazione si sta muovendo e su come alcune imprese riescono bene a reggere il contesto della competizione internazionale. Ovviamente si tratta da questi piccoli germogli di fare nascere qualche cosa di più serio. Non dimenticiamo naturalmente che accanto a questi fattori positivi permangono ancora, fattori non trascurabili invece di debolezze su quali le politiche aspettabilmente dovrebbero andare a vincere. Però questi sono tutti i temi che lascerei, la cui illustrazione lascerei a lei, ovviamente è in grado, come ho scritto, di affrontarli anche in un modo molto più rigoroso di quanto sarei in grado di fare niente. Grazie. Buonasera a tutti, anch'io vorrei iniziare ringraziando il professor Albertini e la Casa Italiana per ospitarci oggi in questo incontro e apprezzo in particolare il fatto che una sede nella quale i temi economici non sono quelli centrali della loro attività apra le sue porte anche un'iniziativa di questo genere. Dovrebbe essere reciproca da questo punto di vista l'attenzione, nel senso che io spesso polemizzo con i miei colleghi economisti perché pretendono di studiare i fatti economici soltanto con grandezze misurabili quantitativamente e inseribili modelli rigorosissimi, invece così non si capisce nulla perché tanti fenomeni economici possono essere capiti soltanto considerando gli aspetti sociali e culturali più difficilmente misurabili con grande attenzione. Detto questo il mio compito invece è dimostrarvi un po' di numeri cercando di articolare il ragionamento che ha già avviato Stefano. Allora, lo schema che cercherò di essere sintetico, non avevo forse calcolato bene il tempo a disposizione, cercherò di serrare un po' il ritmo. Questo è lo schema, io partirò da una panoramica del grado di apertura internazionale dell'economia italiana tenendo conto delle sue dimensioni principali, il commercio estero e gli investimenti diretti esteri, poi dirò soltanto due battute sull'andamento del saldo corrente di bilancia dei pagamenti e sulla sua relazione con la crescita. Concentrerò l'attenzione soprattutto sull'andamento delle esportazioni guardando sia in termini aggregati sia nel modello di specializzazione settoriale che le due cose sono intimamente collegate. Infine mi concentrerò sul livello più microeconomico mostrando alcuni dati che reputo abbastanza interessanti sul comportamento delle imprese italiane nei mercati internazionali e da questi dati che emergono i segnali positivi che prima sottolineava Stefano. Sono segnali positivi ancora parziali, che ancora non bastano a invertire le tendenze macroeconomiche, però sono segnali che non vanno sottovalutati, dovrebbero essere anzi il punto di attacco incoraggiante delle politiche. Farò poi alla fine alcune considerazioni sulle possibili politiche da adottare per rinforzare questi processi andando un po' anche al di là forse di quello che l'analisi che vi proporò permette di dire, ma può essere utile per allargare il dibattito. Dunque la panoramica. Questo grafico misura il peso dell'Italia nell'economia mondiale sotto diverse dimensioni. In 3 anni, in blu 2007, in rosso 2012 in verde. Guardate il 2012, vive in Italia lo 0,8%, 0,7% della popolazione mondiale, l'Italia realizza però il 2,7-2,8% del team mondiale. Questo è un modo diverso per dire che l'Italia ha un reddito procapite superiore alla media mondiale, cioè che fa ancora parte del gruppo dei paesi che chiamiamo paesi sindacali. E fin qui una banalità. Adesso guardate sempre queste colonne verdi. Vedete che vanno abbassandosi andando verso destra. Verso destra avete varie misure di partecipazione al commercio o agli investimenti diretti internazionali. E qualunque misura voi scegliate, la quota dell'Italia è al di sotto della sua quota di bil, ovvero, in un certo senso possiamo dire, al di sotto del potenziale economico. E questa non è una cosa scontata. Nel 2000, ad esempio, la quota sull'esportazione dell'Italia era superiore alla sua quota di bil. Il campo nel quale questo problema, perché io lo considero un problema, è più intenso e più grave è quello degli investimenti diretti esteri e in particolare della capacità di attrarre investimenti dall'estero che vedete in termini di quota sugli stock, che è la quota più importante perché i flussi sono molto volatili, è appena ad 1,5%, quindi poco più della metà delle dimensioni economiche relative al paese. L'altra cosa che questo grafico fa vedere è che negli anni della gravissima crisi di cui vi ha parlato Stefano, queste quote sono tutte diminuite molto rapidamente, molto intensamente, tranne una, la quota dell'Italia sulla stock di investimenti diretti esteri in uscita, che è uno dei fatti interessanti di cui parleremo dopo, nel senso che diversamente da quanto è accaduto in precedenti crisi recessive, una delle risposte che le imprese italiane hanno cercato di dare è quella di rafforzare la propria presenza sui mercati esteri in termini proprio di presenza produttiva diretta. Quello che viene fuori comunque complessivamente è a nostro avviso un grado di apertura inadeguato al potenziale del paese, dunque le economie grandi sono ovviamente banalmente meno aperte di quelle piccole, perché il resto del mondo visto dagli Stati Uniti, che sono l'economia più grande, è molto più piccolo del resto del mondo visto da un qualunque paese piccolo, della banale ragione che gli Stati Uniti non sono un mercato di esportazione per le imprese statunitense o di importazione. Questo vale in qualche misura anche per l'Italia, però tra i grandi paesi europei con i quali di solito ci confrontiamo, l'Italia è quella con il grado di apertura più basso e questa è una novità recente, è uno dei portati di questa lunga crisi strutturale in cui ci troviamo, che è come se avesse portato il paese un po' a richiudersi in se stesso sotto vari profili fino ad arrivare però al punto in cui la domanda interna, come sappiamo, ha avuto un collasso per cui questa chiusura del sistema economico, con le eccezioni che poi vedremo, sta creando tutti i problemi che sappiamo. Guardiamo rapidamente i dati macroeconomici qui a quelli che interessano maggiormente gli aspetti reali della proiezione internazionale. Qui in blu avete l'intercentuale del PIL e dovete guardare sull'asse di destra il saldo corrente di bilancio dei pagamenti. Vedete una lunga tendenza declinante nel periodo osservato, con qualche alto e basso, insomma la tendenza è fuori discussione e poi un rapido recupero negli ultimi due anni. Si stima che nel 2013 il saldo corrente di bilancio dei pagamenti dell'Italia tornerà ad essere positivo. Sotto in rosso avete la posizione patrimoniale sull'estero dell'economia italiana, una misura che questa volta dovete leggere a sinistra del debito estero del ripario in proporzione al PIL. È un livello che oggi non viene considerato preoccupante perché facciamo parte dell'area dell'euro e questo ci pone al riparo da tantissimi rischi, ma quando scoppiò la crisi della lira del 92, il debito estero, che allora giustamente preoccupava, era di dimensioni inferiori a quelle che vedete qui. Questo è un altro dei modi per sottolineare quanto sia utile far parte dell'area dell'euro. Saremmo sicuramente già entrati in una gravissima crisi valutaria se non facessimo parte. Ora ci sono molte persone che quando guardano questi dati di salto, anche purtroppo alcune persone in posizioni importanti in politica e in economia, qui fanno suonare le trombe se il salto diventa positivo. Quindi davanti al fatto che vedete questo rapido recupero e poi adesso ci aschiettiamo in Sartos, leggiamo e leggerete i ministri che dicono che bella notizia, l'Italia è competitiva. Un salto positivo in condizioni di questo genere è un pessimo segno. È il risultato diretto del crollo della domanda interna che si traduce in un crollo delle importazioni. Punto. Perché se guardiamo l'andamento delle esportazioni, l'andamento delle esportazioni non è soddisfacente. Ed è di questo che ora vorrei parlare un pochino meglio. Allora qui avete due misure in valore e in quantità, rispettivamente in azzurro e in agosto, della quota dell'Italia sulle esportazioni mondiali. E vedete la tendenza discendente. Qui si parte dal 2002, nel 2002 eravamo intorno al 4% e si arriva nel 2012 intorno al 2,7%. Il massimo storico della quota italiana si raggiunse nel 1990, quando era il 5%, quindi da allora si è quasi dimezzata, tornando a livelli paragonabili a quelli del 1960. Fin qui direi niente di strano, niente di male. Questa diminuzione di quota riflette ovviamente in misura notevole il successo che in questi anni stanno avendo la Cina ed altri paesi emergenti in via di sviluppo. Questa tendenza declinante delle quote è comune a quasi tutti i paesi sviluppati e non deve preoccupare, anzi da certi punti di vista è una buona notizia che la distribuzione internazionale del reddito diventi meno squilibrata, che ci siano paesi poveri che stanno diventando meno poveri. Questo apre a lungo termine opportunità di crescita per tutti, anche di crescita dell'esportazione. Quindi non è lì il problema. Il problema è che le esportazioni italiane crescono meno di quelle degli altri paesi sviluppati. E perché accade questo? Alcuni danno la colpa all'euro. Il primo imputato io adesso considererò un po' di iniziati, poi vi dirò qual è secondo me la principale ragione di questo declinio di quota. Allora, prima di tutto si tira fuori il fatto che l'euro in particolare fino a 4 anni fa ha avuto una tendenza all'apprezzamento. Questa tendenza all'apprezzamento ha creato problemi di competitività alle imprese italiane e questi problemi di competitività possono spiegare, secondo alcuni, secondo molti manuali di economia, la caduta delle quote di mercato. Però qui vedete, senza entrare troppo nel tecnico, che da 4 anni circa il tasso di cambio effettivo reale dell'euro, sì che tra qui è rovesciato l'indicatore perché è rappresentato come un indice di competitività, quindi l'aumento, la salita che vedete è un guadagno di competitività ed è un guadagno sostanziale che deriva dal tasso di cambio ma deriva anche dalle strategie di prezzo molto prudenti delle imprese. Bene, malgrado questo guadagno di competitività, le quote hanno continuato a scendere e particolarmente la quota in valore, perché la quota in valore scende più di quella in quantità? Perché la quota in valore riprende tutto l'impatto nominale del depreciamento dell'euro. In sostanza i prezzi relativi diminuiscono molto, questo stimola la competitività ma l'effetto di sostituzione che ne consegue un pochino ricardare, tra l'altro, non è sufficiente a condensare questa perdita del depreciamento. Proviamo però a concentrare, anche per togliere di mezzo questo problema del tasso di cambio con tutte le sue ambiguità, proviamo a concentrare l'analisi sulla quota delle esportazioni italiane calcolata sul totale delle esportazioni dell'area dell'euro. Quindi qui confrontiamo paesi che usano l'euro quando vendono, per cui se c'è un problema è un problema condiviso. Poi naturalmente si potrebbe pensare che le esportazioni italiane siano più sensibili ai prezzi relativi di quelle francesi e tedesche, secondo me non è vero, però c'è chi lo pensa e questo potrebbe aiutare a capire che cosa succede. Ma in realtà in questo grafico un po' tecnico è nascosto il colpevole principale di quello che osserviamo. Guardate la curva azzurra. La curva azzurra è la quota italiana aggregata sulle esportazioni dell'area dell'euro che era dell'11,7% nel 2002, scende rapidamente fino al 2010, poi c'è un interessante leggero recupero negli ultimi due anni. Allora, la nostra tesi è che questo declino di quota sia dovuto principalmente, e cioè per due terzi, alle caratteristiche del modello di specializzazione delle esportazioni, e cioè al fatto che le esportazioni italiane sono particolarmente forti in prodotti a domanda mondiale relativamente lenta e particolarmente deboli nei prodotti che tirano di più nella domanda mondiale. Un problema che in sintesi si chiama di inefficienza dinamica del modello di specializzazione, che genera una cosa che in statistica si chiama un effetto di composizione negativo. Allora, quella che vedete in rosso è la quota che avrebbero avuto le esportazioni italiane sull'area dell'euro se non ci fosse stato questo effetto di composizione avverso. Cioè quella è una media ponderata delle quote di mercato registrate per ogni singolo prodotto, l'analisi è stata fatta al massimo livello di disaggregazione del prodotto e del mercato. Quindi parliamo di milioni di segmenti prodotto e mercato. Facendo i conti bene viene fuori, vedete che la quota italiana sarebbe comunque diminuita ma molto meno. Questa perdita che comunque rimane nei confronti dell'area dell'euro è come sapete tutti una perdita soprattutto rispetto alla Germania, rispetto agli altri paesi dell'area dell'euro le esportazioni italiane riviste in questo modo non vanno male, non c'è un problema di competitività rilevante, c'è un problema di specializzazione. E che caratteristiche ha il modello di specializzazione italiano? Se ne sente sempre parlare come di un modello concentrato in, io vi ho detto prima prodotti a domanda mondiale poco dinamiche, questo è vero, ma attenti a non confondere la dinamicità della domanda con l'intensità tecnologica. La storia che si racconta sul modello italiano è che siamo forti nei settori maturi tecnologicamente deboli in quelli avanzati. Qui si usa la classificazione per l'intensità tecnologica dell'Ocse e vedete che indubbiamente non si può essere specializzati in tutti i settori d'Italia, è fortemente in svantaggio comparato nei settori definiti dall'Ocse ad alta intensità tecnologica che si trovano in basso, anche se vedete che negli ultimi anni qualche liere segno di recupero anche lì appare. Nella parte alta del grafico il gruppo di prodotti nei quali l'Italia vantava tradizionalmente i più intensi vantaggi comparati è proprio quello a bassa tecnologica. E poi ci sono due classi di prodotti a tecnologia intermedia. Vedete la novità di un modello che è sempre stato definito rigido e incapace di cambiare e invece sotto la pressione competitiva dei paesi emergenti cambia. I vantaggi comparati nei settori tradizionali, cosiddetti a bassa tecnologia, si vanno attenuando. Fino al punto qui siamo alla vigilia della crisi nel 2008, l'intensità della specializzazione in questi settori è diventata uguale a quella dei settori a tecnologia intermedia, tra i quali si trovano i macchinari industriali che sono oggi il principale punto di forza del modello italiano. Non è più corretto rappresentare il modello italiano come il modello basato prevalentemente su calzature e abbigliamento modi. Certo sono anche importanti, ma sempre meno rispetto invece all'importanza crescente che sta acquistando questa grande industria che è l'industria della meccanica strumentale e altre cose simili. Quindi è un modello che cambia nella direzione che tanti osticavano e tuttavia resta il problema della sua inefficienza dinamica perché questo problema riguarda i singoli prodotti in ogni settore. E dirò qualcosa su questo dopo, ma prima voglio rapidamente farvi vedere anche come tutto questo si manifesta nei dati sull'occupazione. Qui vedete che i tre settori, allora qui sull'asse orizzontale avete una misura della pressione competitiva dei paesi in via di sviluppo, molto semplice, la loro quota sulle esportazioni mondiali settore per settore. Nell'asse verticale c'è la variazione dell'occupazione settore per settore, tasso medio anno dal 2000 a 2007. In basso a destra ci sono tre settori, abbigliamento, poliocalzature e tessili, nei quali l'industria italiana ha perso occupati a tassi medio anno, intorno al 3% all'anno. Questa è un'altra manifestazione del cambiamento di modello. Chiaramente questa è una delle conseguenze sociali pesanti che vanno affrontate, ne parleremo dopo, però è appunto un modello che cambia. In alto vedete che la globalizzazione, quindi vengono imputate di solito queste cose, se da un lato distrugge posti di lavoro in certi settori, dall'altro ne crea in altri settori, perché in un periodo comunque non facile per l'economia italiana l'occupazione per esempio nel settore dei macchinari industriali è cresciuta a un tasso medio anno del 2%. E parliamo di occupazione manifatturiera, quindi non è lo spostamento verso i servizi che pure si è in parte realizzato. Ecco, quindi i cambiamenti ci sono, questi cambiamenti non bastano a risolvere il problema di qui sopra, il problema di qui sopra è legato all'elasticità della domanda rispetto al reddito. L'elasticità della domanda rispetto al reddito è particolarmente alta quando un prodotto è innovativo e quindi dietro quel problema c'è la difficoltà delle imprese italiane di fare innovazione del prodotto, la quale a sua volta riflette i limiti del sistema industriale italiano per quanto riguarda la capacità di assorbire lavoro qualificato. Un problema di capitale umano. Noi abbiamo un'offerta straordinariamente, una dotazione straordinariamente limitata di capitale umano. È un circolo vizioso perché la domanda delle imprese di capitale umano qualificato è a sua volta bassa. E questo è il problema principale sul quale si dovrebbe cercare di lavorare. Adesso vediamo però questi dati interessanti che emergono a livello di singole imprese. Qui partiamo ancora da dati aggregati che sono quindi una media del comportamento delle imprese che però sono interessanti. Allora, tassi medi-annui dal 2009 al 2012, quindi per un triennio. Vedete il depreciamento dell'euro in termini nominali del 4% all'anno. In termini reali, lo vedete nella quinta colonna, un po' di più. Questo che cosa vi dice? Vi dice che a parte l'effetto del cambio, i prezzi praticati dalle imprese italiane sono mediamente cresciuti meno dei prezzi dei concorrenti. Malgrado tutti i problemi che sappiamo di competitività di costo. E guardiamole un po' più da vicino, le strategie di prezzo delle imprese, perché da un po' di anni riusciamo, abbiamo dei veri indici di prezzo delle esportazioni, quindi riusciamo a vederle meglio. Vedete che i prezzi praticati dalle imprese italiane sul mercato interno, la seconda colonna, crescono del 4%, un po' più, anzi abbastanza più, dei prezzi praticati sui mercati esteri, sia all'interno sia all'esterno dell'area dell'euro. Questo appare strano. Di solito, in periodi di depreciamento, le imprese fanno un tipo di discriminazione di prezzo che in sostanza le porta ad aumentare i prezzi sui mercati esteri per incamerare in termini i profitti unitari una parte del margine creato dal depreciamento. Se le imprese italiane non lo fanno è perché evidentemente hanno capito che i mercati dinarici sono quelli esterni all'area dell'euro ed è all'esterno dell'area dell'euro che sono attentissime a difendere tutti i margini di competitività che il cambio garantisce. Però malgrado questo, vedete subito dopo in arancione la crescita delle quantità di manufatti esportate dall'industria italiana, rimane molto inferiore alla crescita delle esportazioni mondiali di manufatti in azzurro. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo, questo ve lo dice l'ultimo estogramma, sta succedendo che le imprese italiane, sentendo questa pressione competitiva, si spostano sempre di più sulle cosiddette fasce alte del mercato, riqualificano la propria produzione. Questo lo vedete perché in rosa lì avete la crescita dei cosiddetti valori unitari dell'esportazione. Quando questa crescita è superiore alla crescita dei prezzi, questo anche se ci sono un po' di problemi statistici ma insomma dobbiamo accontentarci, questo è un indice di miglioramento qualitativo dell'esportazione. Che naturalmente poi è una contropartita in termini quantitativi perché i prodotti di qualità superiore sono prodotti più costosi, se ne vendono di meno e quindi le vuote aggregate si vincioniscono. Però è la strada giusta, cos'altro potrebbe fare un'impresa italiana nelle condizioni attuali se non puntare su fattori di competitività diversi dal prezzo ed è quello che fanno almeno le imprese migliori. Poi è arrivata la crisi, la crisi globale che ha colpito tutti ma l'Italia più intensamente di altri prezzi. Qui vediamo gli effetti sulle esportazioni distinguendo tra i cosiddetti margini estensivi e intensivi dove per margine estensivo delle esportazioni qui si intende semplicemente il numero degli esportatori, ci sono varie definizioni ma questa è abbastanza concreta e intuitiva e per margine intensivo il fatturato medio all'export realizzato da ogni impresa. Allora il primo gruppo di istogrammi si riferisce all'impatto iniziale della crisi, il collasso del commercio mondiale nel 2009. Vedete l'effetto in Italia, ci fu un crollo del numero degli esportatori e il numero dei piccoli esportatori in verde cadde più di quello dei medi in rosso e ancora più di quello dei grandi in blu. Però se guardate il margine intensivo, quindi le esportazioni medie per l'impresa, vedete una cosa curiosa, vedete che il colpo più duro è stato subito dalle imprese più grandi, seguite da quelle medie e le piccole sono quelle che hanno sofferto meno in termini relativi l'impatto della crisi. Ora vediamo cosa è successo dopo quando c'è stato il rimbalzo del commercio mondiale. Il numero degli esportatori, dei piccoli ovviamente perché si entra dal basso, ha ripreso a crescere. Questo è un pochino anche un effetto del depreciamento dell'euro. Quando una valuta si deprezza, questo crea opportunità nuove per imprese che operavano prima soltanto sui mercati interni, diventa un po' più facile provare ad affacciarsi sui mercati esteri. Però vedete che il numero degli esportatori medi e grandi continuano a diminuire, sia pure di meno. Questo può a prima vista sembrare preoccupante, invece non è preoccupante. Questo è un segno per quanto approssimativo del fatto che l'integrazione internazionale sta facendo il suo mestiere, cioè sta selezionando le imprese migliori. Selezionare le imprese migliori vuol dire che alcune imprese chiudono perché magari vengono assorbite da altre. E lo vedete nel margine intensivo, che questa volta cresce più per i grandi esportatori che per i medi e per i piccoli. Cosa c'è dietro questi processi di selezione? C'è soprattutto il vantaggio di produttività che di solito è associato alle grandi dimensioni aziendali. Qui vedete una misura approssimativa della produttività per addetto e la vedete differenziata tra imprese esportatrici in azzurro e imprese che vendono soltanto sul mercato interno in rosso. Vedete innanzitutto che la produttività cresce al crescere delle emozioni aziendali. Questa certo non è una grande scoperta. Vedete anche che sono livelli interessanti di produttività quando prendete le grandi imprese, soprattutto. vedete però anche che il margine, cioè per esportare bisogna avere un vantaggio di produttività, perché è questo vantaggio di produttività che consente di superare i cosiddetti costi sommersi dell'accesso ai mercati internazionali. Il costo in più che si deve sostenere per scoprire un mercato nuovo, per insediarsi in un mercato nuovo, per far conoscere le proprie marchi, eccetera, eccetera. Ora, anche quando si è piccoli si può avere un vantaggio di produttività. Sono proprio queste le piccole imprese che hanno successo col passare del tempo. Vedete che il vantaggio di produttività delle piccole imprese in termini relativi è più grande di quello delle medie imprese e soprattutto di quello delle grandi imprese che probabilmente si adagiano sulle economie di scala di cui possono potere. Qual è qui il messaggio? Il messaggio è che questo mantra che sentite ripetere sempre sul fatto che l'industria italiana avrebbe un problema di nanismo è vero fino a un certo punto e soprattutto è pericoloso se lo trasformiamo in una ricetta di politica industriale. L'idea di puntare a far crescere la dimensione delle imprese così come sono oggi è un'idea che non ci porta da nessuna parte perché è un altro modo per raccontare la storia che l'economia italiana cresce meno di quella degli altri paesi. Invece, a nostro avviso, se si riuscisse a cambiare la qualità delle imprese intervenendo sul capitale umano per usare una formula e quindi mi riallaccio al ragionamento di prima, le imprese di buona qualità sono le imprese che crescono, poi la crescita che ci vuole naturalmente, la crescita dimensionale delle imprese sarebbe il risultato endogeno di queste politiche. L'ultima parte riguarda il progetto di ricerca che abbiamo avviato sul modo in cui le imprese italiane partecipano alle cosiddette reti produttive internazionali o catene globali del valore, come si chiama chiamarle, anche se spesso non sono globali. Qui vedete intanto che le multinazionali italiane, non sono tante ma non sono nemmeno pochissime, in totale si stima che siano circa 10.000, in periodo di crisi hanno fortemente sviluppato la loro attività all'estero, sia in termini di numero, di affiliate, sia in termini di lavoratori, c'è stata una crescita significativa dell'occupazione all'estero, sia in termini di fatturato, sia soprattutto in termini di esportazioni. Questo è un dato forte, il tasso medioanno di crescita delle esportazioni di queste affiliate è vicino al 16%, sono numeri piccoli, dal numero piccoli si cresce facilmente parecchio, però è evidente che una parte di queste vendite vanno a sostituire le esportazioni italiane e quindi di nuovo quando si guarda le quote di mercato bisognerebbe smetterla di pensare soltanto ai tassi di cambio reali. Sono altre le cose che spiegano l'andamento delle quote di mercato, per esempio questa, la stretta relazione, sempre più stretta che c'è tra commercio e produzione. Da un po' di tempo molti studiano un nuovo database che si chiama Tiva Trading Value Addit, che cerca di tener conto sinteticamente di tutte le dimensioni della produzione internazionale, perché si può produrre all'estero anche senza fare investimenti, quella che abbiamo visto prima è la forma più matura dell'internazionalizzazione produttiva. Si può produrre all'estero anche semplicemente stringendo alcuni di collaborazione con dei partner stranieri o persino scegliendo in maniera oculata i propri fornitori di beni servizi intermedi. Allora, qui dietro ci sono stime complicate, quindi risparmio dei tagli tecnici, ci sono tantissimi indicatori. Questo misura il contenuto di valore aggiunto estero delle esportazioni, cioè ci dice in che misura un'impresa che esporta, e poi questo naturalmente lo portiamo a livello di sistema industriale, in che misura un'impresa che esporta si serve di beni e servizi intermedi prodotti all'estero, quindi in che misura è inserita in queste catene produttive internazionali. Vedete che l'Italia sta un po' più indietro rispetto agli altri grandi paesi europei, vedete che stava già perdendo terreno prima della crisi e che la perdita è stata particolarmente forte durante la crisi, mentre per gli altri paesi europei il colpo c'è stato, ma un po' meno intenso. Allora, noi abbiamo cercato di lavorare su questo stesso tema con un altro metodo. In Italia abbiamo una fortuna, dati estremamente disaggregati di commercio estero a livello provinciale, che permettono di confrontare l'andamento delle esportazioni, per esempio di tessuti in questo caso, da una qualunque provincia italiana verso un qualunque paese partner, non so, Puglia verso Albania, mettendolo a paragone con l'andamento poi delle importazioni di abbigliamento, ho detto Puglia, scusate, qualunque provincia di Lecce verso Albania e importazioni della provincia di Lecce dall'Albania. Lavorando su questi dati con tecniche opportune, noi abbiamo stimato quanto commercio internazionale è stato generato presumibilmente da queste reti di collaborazione produttiva. Qui avete un'idea nel caso dell'abbigliamento, vedete che si partiva da circa un miliardo di euro nel 1997 e questa cifra raddoppia per quanto riguarda le esportazioni di tessuti, in alto avete l'espansione molto più forte delle importazioni di capi di abbigliamento nella direzione opposta, la differenza tra queste due curve potete vederla come una stima del valore aggiunto creato all'estero. È un fenomeno in espansione ed è la strada che scelgono le piccole imprese per produrre all'estero e restare competitive. Non basta ancora, però sono segni di movimento interessante. Allora, questa è la sintesi, la leggo rapidamente perché ho già parlato troppo. A nostro avviso l'economia italiana non è sufficientemente aperta alle relazioni internazionali, il miglioramento del saldo corrente è un effetto della gravissima recessione in cui ci troviamo e non è da considerare un fatto positivo. La debolezza delle esportazioni negli ultimi anni è dovuta principalmente alle caratteristiche del modello di specializzazione e queste sembrano tutte notizie negative, però poi viene fuori qualcosa di buono quando si va a livello micro. La selezione competitiva dovuta alla globalizzazione sta facendo il suo lavoro e sta aumentando la capacità delle imprese italiane di partecipare delle reti produttive internazionali anche se c'è ancora strada da fare. Qui adesso la parte sulle cosiddette policy implications va ben al di là di quello che i dati che vi ho mostrato possono eventualmente giustificare e riflette un po' un insieme di analisi fatte al CER di cui non mi sono occupato io, quindi sarò ancora più telegrafico. Dal punto di vista macroeconomico noi pensiamo che sia necessario a livello europeo un piano coordinato per rilanciare la domanda e soprattutto per creare prospettive credibili di crescita degli investimenti a lungo termine. Se gli imprenditori non ritrovano la fiducia nel futuro sarà difficile rilanciare la crescita in Europa in generale. Poi come debba essere distribuito l'onere di questo piano tra i Paesi membri è un problema molto serio ma non ne parliamo. Passiamo invece a livello nazionale. A livello nazionale la priorità numero uno è quella che tutti abbiamo in testa cioè dal lato dell'offerta riforme strutturali incisive favorevoli alla crescita guidate dall'idea che i mercati vadano aperti, che il grado di concorrenza debba essere accresciuto dappertutto e che debba essere sviluppata a capacità di fare impresa. Questo riguarda anche il lavoro della scuola e dell'università che da questo punto di vista sono molto indietro. Poi c'è da lavorare anche con il bilancio pubblico. Prima di tutto bisogna prendere molto sul serio l'impegno che abbiamo assunto per la riduzione del debito pubblico altrimenti tutto ciò di cui stiamo parlando non può riaggradarsi. Ma bisogna anche saper incidere in maniera selettiva sia sulle imposte sia sulla spesa pubblica. Uno dei criteri da seguire è quello di spostare l'onere della tassazione dai renditi del lavoro verso le rendite, i renditi da capitale perché questo può contribuire a rilanciare la domanda e c'è bisogno di un rilancio della domanda. Criteri simili possono e dovrebbero essere usati anche nell'ingegneria dei tagli di spesa che deve essere anche quella molto selettiva mirata soprattutto a colpire le posizioni di rendita. Per quanto riguarda invece le cose che riguardano più da vicino la competitività delle imprese, una prima lezione che forse possiamo trarre dall'analisi quando si vuole aumentare la competitività delle imprese si può agire o sul numeratore del club che sono i salari oppure sul denominatore che è la produttività. La nostra tesi è che si raggiunge sul numeratore con una deflazione salariale comunque ottenuta oppure in termini relativi con un depreciamento del euro, i benefici se arrivano sono benefici temporanei ma potrebbero anche non arrivare per niente proprio perché soprattutto se si agisce sui salari c'è una perdita di domanda interna che può compromettere la capacità di sopravvivenza delle imprese. Invece bisogna lavorare seriamente sul denominatore, aumentare la produttività vuol dire comunque far guadagnare competitività alle imprese e in più che non è da poco questa differenza vuol dire aumentare il tasso di crescita dell'economia, migliorare le prospettive di progresso sociale del paese, produttività più elevata vuol dire anche ospedali migliori, scuole che funzionano meglio e tante altre cose. Per tutto questo l'integrazione economica internazionale, cioè la globalizzazione in una parola sola, rimane essenziale perché è lo shock esterno di cui abbiamo bisogno per la selezione competitiva delle imprese migliori. Naturalmente questo genera problemi sociali importanti che non vanno sottovalutati, però vanno affrontati con politiche sociali, non con il protezionismo. Le politiche sociali per affrontarle esistono, richiedono risorse pubbliche, anche per questo vanno tagliate altre fonti di spesa. L'ultima cosa un po' più specifica riguarda le politiche di sostegno dell'internazionalizzazione, che è un terreno nel quale si spreca molto del denaro pubblico. Qui ci limitiamo a una formula, anche perché veramente ho parlato troppo, la formula è questa, anche l'internazionalizzazione va pensata come una forma di innovazione. L'internazionalizzazione è innovazione organizzativa, quindi concentrare tutto lo sforzo pubblico sul sostegno all'innovazione non può che avere benefici anche dell'internazionalizzazione. E' tutto, grazie per l'attenzione. Grazie per l'invito questa sera a discutere questa interessante ricerca. Mi scusi in anticipo se non sono abituato a fare discorsi in italiano, ho provato una economia, ho provato una volta e ho avuto i risultati veramente progressi. Perché è 18 anni che mi occupo di economia qui negli Stati Uniti e purtroppo facciamo solamente l'inglese. Comunque, però, a parte... No problemi. No problemi. Allora, inizio, sarò breve e essenzialmente voglio dedicare il mio intervento a discutere alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali nel senso che riducono l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Vedrete che mi troverò un po' a disagio perché in qualche modo le mie opinioni sono abbastanza diverse da quelle che sono state pieni. E soprattutto per quanto riguarda un fatto. Il fatto principale è quello dell'analismo delle imprese italiane. Cioè l'analismo delle imprese italiane non afferisce solamente alle imprese che esportano, chiaramente, ma a tutte le imprese. Quindi dati comunemente di Eurostat fanno vedere che l'impresa media italiana ha come dimensioni la metà di quella della media europea. E chiaramente questo in principio non è necessariamente un problema. Invece quello che voglio sostenere è che è un grosso problema. È un problema fondamentale. È un problema fondamentale numero uno perché come abbiamo visto anche dei dati che sono stati presentati, le imprese più grandi sono molto più produttive di quelle più piccole. Chiaramente, come è stato detto nella presentazione precedente, dipende dal motivo per cui sono più piccole. Sono più piccole perché è stata efficiente se un'impresa poco produttiva rimanesse piccola. Non ci sarà meglio di male. Il problema è chiedersi se effettivamente le imprese italiane rimangono più piccole perché in qualche modo sono meno produttive, nel senso che gli imprenditori sicuramente sono meno capaci, per esempio, oppure perché ci sono dei constraints di natura politica, di politica economica, che fanno sì che le imprese rimangano piccole. Quindi voglio fare un esempio brevissimo. Nel mercato del finance equipment, le due principali imprese, quelle che hanno la share del mercato maggiore, sono un'impresa americana o l'italiana. L'impresa americana si chiama Life Fitness, che sta est e l'headquarter sono fuori O'Hare Airport in Chicago. L'impresa italiana si chiama Technology ed è in un paesino che si chiama Gambettola, nella provincia di Forlie Cesena. Quindi ci sono i due colossi del fitness tipo mondiale. L'interessante che sono entrambi sono nati della stessa maniera, cioè un imprenditore nel garage, comincia a produrre queste macchine e scopre che è bravo e poi dopo esce dal garage si espande. Questa è la fine degli anni 70, inizia l'80. Oggigiorno l'impresa americana è stata venduta nel 91 dall'imprenditore che l'ha costruita a degli investitori più di private equity e poi eventualmente è stata venduta a una grossa azienda, una public company, che si è un branch corporation e ha 4 miliardi di dollari di capitalizzazione, che è portato al New York Stock Exchange e si è sviluppato su una varietà enorme di settori di grande continazione americana. L'impresa italiana invece è di proprietà del fondatore e del fratello. Perché questo succede? Succede perché in Italia purtroppo ci sono due cose che mancano totalmente. Uno è il private equity, non esiste il private equity in Italia essenzialmente. E l'altro è che essenzialmente il mercato di borsa assolutamente non funziona. Quindi effettivamente anche se gli imprenditori che hanno creato Tecnocino avessero voluto liquidare l'azienda e incassare l'investimento e passare essenzialmente la proprietà e soprattutto il management dell'impresa verso persone che sono in qualche modo più qualificate, non l'avrebbero potuto fare perché essenzialmente in Italia i mercati finanziari sono assolutamente inefficienti, soprattutto nel mercato di borsa. Il mercato di borsa in Italia è circa il 25% del PIB, degli Stati Uniti. Un problema connesso, quindi l'analogia è questa, l'analogia tra le imprese italiane e le imprese estere in termini di imprese, cioè in termini di dimensioni, che voglio proporre è quella che voglio proporre tra un bambino che cresce in un paese come gli Stati Uniti e un bambino che cresce in un paese sottosviluppato. Diciamo che potremmo osservare che il bambino che cresce nel paese sottosviluppato comunque cresce meno in altezza rispetto al bambino che cresce nei Stati Uniti e quello lì potrebbe essere per due motivi, uno perché geneticamente cresce meno perché ha un DNA diverso, l'altro è perché l'apporto proteico della sua dieta è diverso. Quindi quello che bisogna chiedersi è, le imprese italiane sono più piccole perché è una questione di DNA, nel senso che i loro imprenditori non sono per esempio altrettanto capaci, oppure perché la loro dieta proteica non è sufficiente, ad esempio i mercati finanziari non li assistono nella loro crescita dimensionale. Il prossimo step nell'analogia è considerare, visto che essenzialmente le imprese italiane, tra cui questa è l'impresa Tecnogine, non hanno accesso ai mercati di equity o anche del bono market. Quali sono le loro possibilità per quanto riguarda il finanziamento? Le banche, non c'è alternativa alle banche. Allora diamo l'occhiata così breve e assolutamente sintetica a quella che è l'efficienza dell'estima bancaria italiana. Soprattutto se avete visto che gli eventi recenti di cui ci sono stati testimoni, ci sono grossi dubbi sull'efficienza del settore bancario d'Italia. E poi è stato a vedere, in larga parte, con la privatizzazione del settore bancario che è stata attuata negli anni anni 90. Probabilmente sarete accorretti che fino alla fine degli anni 80 la maggior parte delle banche italiane era del governo. Quelli degli anni in cui il Banco di Napoli e il Banco di Roma davano dei soldi a Napoli calcio per comprare Maradona. Poi nei primi anni 90 una serie di provvedimenti ha privatizzato queste banche. Ma come le hanno privatizzate? Beh, le hanno privatizzate costituendo queste cosiddette fondazioni bancarie, foundations, e hanno dato la proprietà delle banche a queste fondazioni. Qual è il problema? Di cui ci siamo effettivamente accorti per esempio con il caso delle monti di passi di Siena. Il problema è che il board of directors, il consiglio di amministrazione di queste fondazioni viene nominato dai politici locali. A Siena i politici locali nominavano il consiglio di amministrazione della fondazione e la fondazione nominava il management della banca. Quindi ci siamo trovati, ad esempio, nel caso dei monti di passi di Siena, una situazione in cui il CFO, il Chief Financial Officer, non poteva fare trattative perché non parlava inglese. Quindi il grado di cooptazione nel sistema Italia, soprattutto nel sistema bancario, è arrivato al punto che il CFO di una della quarta banca più grande d'Italia, non parlando inglese, non poteva effettivamente fare trattative con soggetti istituzionali non italiani. Quindi questo qui è un problema. Sì, è un problema perché l'allocazione del credito, per quanto riguarda da parte di queste banche, risponde a logiche che spesso hanno poco che vedere con criteri di efficienza o criteri di profitto, ma più che altro hanno a che vedere con la necessità, comunque, di rendere conto da certi interessi di carattere politico che non hanno a che fare con gli interessi che possono essere, ad esempio, quelli delle imprese produttive che cercano di esportare verso la storia del mondo. Una conversazione che ho avuto io, quest'estate, durante il mio ultimo viaggio in Italia, con il CFO di una piccola impresa che produce machinery, quindi ne vedete in mente guardando il grafico questo impiacimento. Questa azienda si viene a confrontare quasi unicamente con le imprese tedesche e questo mio conoscente, il CFO, mi ha detto il problema dove i tedeschi ci battono sempre e comunque, non solo nella qualità del prodotto, ma sono nei termini finanziari che possiamo offrire al nostro cliente. Cioè noi vendiamo le mattinarie alle imprese indiane, l'impresa indiana ha bisogno di essere finanziata, cioè ha bisogno di credito per poter comprare il macchinario da noi, i tedeschi sono fortissimi in questo. Noi non siamo sopportati dalle banche e quindi perdiamo la commessa quasi sempre basata sui termini finanziari che possiamo offrire. Quindi ho permesso di essere breve, sarò breve, se voglio soffermarvi su un altro punto che penso che sia molto interessante che è stato toccato nel report del CER e il punto che ha a che fare con le FDI, con il Foreign Direct Investment. E' interessante perché molta gente non comprende perché sia importante per imprese italiane esportatrici il fatto che FDI sia rilevante quanti che troviamo. Allora vi do un numero per quanto riguarda gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il 18% degli export dagli Stati Uniti Stati Uniti verso l'estero del mondo è realizzato da imprese che sono estere e vengono a produrre negli Stati Uniti perché gli conviene produrre negli Stati Uniti piuttosto che negli Stati Uniti. in Europa un simile ruolo lo gioca in Irlanda. In Irlanda ci sono molte imprese americane che invece che esportare direttamente dagli Stati Uniti verso l'Europa stabiliscono delle fabbriche in Irlanda e poi da Irlanda vendono agli altri paesi europei. Quindi il Foreign Direct Investment è assolutamente importante. E' così importante che anche i politici italiani poi l'hanno compreso. Tant'è che il Presidente Consiglio Letta nella sua ultima missione qui a New York in settembre, parlando al Council of Foreign Relations, ha articolato quelli che sono i suoi progetti per cercare di incrementare foreign investment in Irlanda. Il Presidente Consiglio è una persona molto intelligente quindi ha fatto un lungo elenco di interventi che effettivamente potrebbero avere un effetto positivo. Qual è il problema? Il problema è che pochi giorni dopo, penso un pari di giorni dopo, Telefonica, che è un'azienda spagnola, un leader mondiale delle telepubblicazioni, ha annunciato che si era accordata con Telecom Italia, che è la principale azienda telefonica italiana, appunto per acquistare Telecom stessa. Quindi a quel punto lì Telefonica avrebbe preso controllo di Telecom Italia. e la risposta, cioè, la risposta del governo in prima battuta è stata, beh, staremo vigilanti, però questo è un accordo tra due imprese private e quindi noi non abbiamo nessun business a dire cosa fare o no. Però dopo in Italia c'è stata una pressione dei media e soprattutto dei politici enormi, perché? Beh, particolarmente perché hanno scoperto, un po' tardi forse, che Telecom Italia ha la proprietà di tutto il network telefonico italiano e quindi sono addirittura andate a scomodare il COPASIR che è un comitato parlamentare che si occupa di delle questioni di national security, di difesa nazionale, e hanno detto che è impossibile che il network telefonico sia nelle mani di un'azienda straniera, perché cosa succede se siamo andiamo in guerra con la Spagna, questi qui ci tagliano le linee telefoniche e noi non possiamo comunicare. E quindi dov'è una cosa che si è inventato? Si è inventato due provvedimenti per cercare di stoppare Telefonica. Un primo provvedimento hanno essenzialmente cambiato la lista degli asset strategici dei paesi e hanno inserito un lettore telefonico in questa lista, quindi questi asset già non potranno essere venduti in Europa. In secondo luogo hanno cambiato la legge sull'Europa, o andranno a cambiare la legge sull'Europa, cioè le offerte pubbliche di acquisto, essenzialmente obbligheranno Telefonica, nel caso in cui insista a voler comprare Telecom, a fare un tender offer, a fare un'offerta di acquisto per il totale del flottante di Telecom Italia. Quindi qualsiasi persona che sia un azionista di Telecom Italia avrà la possibilità di vendere le proprie azioni a Telefonica al prezzo stabilito con Telecom Italia. Allora, perché questo qui è un problema? E' perché questo è esattamente il motivo per cui la gente ha un magistrato in Italia, perché ti cambiano le regole delle regole. E' come se qualcuno ti toglie il tappeto per lo che fa delle soluzioni. Quindi è inutile, perché lei va venendo a New York a annunciare tante per le iniziative, e se poi dopo il governo fa delle cose. Questa è un po' anche la mia frustrazione del migrante. vorrei chiudere facendo un elogio spassionato e assolutamente sincero al report che ha scritto il CERN. Perché soprattutto per quanto riguarda l'analisi del commercio internazionale, per quanto ne so io, c'è una necessità enorme di elementi fattuali, oggettivi, su cui avere una serena discussione, soprattutto di politica economica. E questo report molto articolato, esattamente viene a soddisfare questo bisogno. Comunque una grande parte di questo bisogno, cioè di dare i dati su cui noi possiamo, tutti gli economisti oppure i policy makers che sono interessati, possono avere una discussione molto precedente e feconda. E fino ad oggi effettivamente ne avevamo molte cose. E io ho imparato tantissimo, e ne sono molto riconoscente, leggendo un report, soprattutto a quello che mi interessava a me dal punto di vista intellettuale, e cercare di capire come la specializzazione produttiva delle imprese italiane era cambiata. E soprattutto c'è un grafico molto interessante, che sicuramente farò vedere anche ai miei studenti, riguardo a quello che è il cambiamento della specializzazione delle imprese italiane, verso i settori che non sono high-tech ancora, ma sono comunque sempre più alto livello tecnologico, rispetto a quelli tradizionali. Grazie. Grazie dell'invito, questa sera sarà difficile il mio intervento dopo i tre precedenti. Inizio dicendo che le opinioni che scriverò stasera sono le mie opinioni personali e non necessariamente l'opinione di la SAD, che è stato richiesto dal mio compliance officer, quindi devo dire questo. La prospettiva di quello che dirò è la prospettiva di un investitore straniero, che guarda all'Italia in cerca di opportunità di investimento, soprattutto nei mercati azionali o obbligazionali, è che deve fare due tipi di analisi fondamentalmente. Un'analisi top-down del paese dal punto di vista macroeconomico, dal punto di vista politico, e poi anche un'analisi di tipo bottom-up delle individuali... Io ho lo stesso problema di Gianluca, sono abitato a parlare in inglese sempre... Comunque, un'analisi fondamentale delle aziende su cui investire o delle condizioni fiscali del paese. Quindi, dal punto di vista macro, abbiamo fatto un'analisi anche l'anno scorso, insomma Gianluca abbiamo fatto un paper che guardava all'Italia dal punto di vista macroeconomico e politico, e diciamo che è facile identificare una serie di fattori che hanno una influenza sulle prospettive future del paese. L'obiettivo dell'analisi che personalmente io faccio nel mio lavoro giornaliero è quello di fare un forecast per i successivi 12 mesi della situazione macroeconomica di una regione, che può essere la regione della Eurozona, in particolare dell'Italia in questo caso. E chiaramente, quando parliamo dell'Italia, i fattori che influenzano questa analisi, il fattore più importante sicuramente è un fattore di rischio che è la ristabilità politica. Quindi, quando andiamo ad analizzare questo fattore di rischio, la prima cosa che viene subito in mente è che se tu non sei una persona che è nata e vissuta in Italia è difficile capire perché hai tutti questi partiti, fondamentalmente. se sei abituato, se sei cresciuto negli Stati Uniti, dovrai prendere due partiti, poi guarda l'Italia e hai una lista che non solo è molto lunga, ma il problema è che cambia ogni sei mesi. Quindi, ci sono tante variabili che devi conoscere e queste variabili in effetti sono troppe per poter essere poi utilizzate in maniera efficiente in un modello quantitativo, diciamo. Quindi, non possiamo soltanto guardare ai dati, ma dobbiamo guardare anche delle considerazioni di tipo qualitativo. e per fare ciò abbiamo bisogno di semplificare l'analisi e fondamentalmente guardare una serie di scenari futuri che possiamo ipotizzare e poi, attraverso un mix di valutazioni quantitative e qualitative, assegnare una probabilità a questi scenari futuri e utilizzare questo framework per guidare le decisioni dal punto di vista delle strategie di investimento. Quindi, facendo ciò, quello che è il risultato che ho prodotto è una serie di sei scenari per i prossimi dodici mesi che sono fondamentalmente legati alla situazione politica del paese perché la situazione politica del... la situazione del... chi governerà il paese nei prossimi dodici mesi avrà un impatto fondamentale su quali saranno le rispettive future dell'Italia. quindi, per esempio, il primo caso che ho identificato è che il governo Letta continua a rimanere in carica per i prossimi uno o due anni e questo ho segnato una probabilità del 30% a questo scenario ed è uno scenario moderatamente positivo dove però l'impatto sullo sviluppo economico del paese è abbastanza neutro perché, dal mio punto di vista, questo governo, diciamo, non ha la stabilità e il capitale politico per implementare le riforme strutturali di cui il paese ha bisogno. Una particolarità, penso, dell'Italia è che tutti dicono ma cosa bisogna fare per migliorare la situazione del paese? Il fatto è che le riforme che sono necessarie sono note a tutti per esempio la riforma del sistema giudiziario, la riduzione della burocrazia riforma del mercato del lavoro per introdurre più flessibilità riforma del sistema fiscale, l'apertura dei mercati e queste riforme strutturali sono anni che se ne discute però non vengono mai implementate per un motivo o per l'altro quindi questo è il motivo per cui dico che la situazione politica ha un peso molto elevato quando si analizza la situazione economica del paese purtroppo secondo il mio parere e anche basato sugli studi e ricerche che abbiamo fatto internamente alla SAAD non vediamo le condizioni per questo governo che permette a questo governo di mettere in campo queste riforme il successivo scenario è quello in cui il governo cade e però ci sono nuove elezioni in cui quindi il PD che riesce a fare un governo però di coalizione quindi un'ipotetica coalizione con in questo caso io ho pensato il Movimento 5 Stelle perché è insomma l'unica possibilità che vedo di fare un altro governo di coalizione considerato la legge elettorale vigente ha segnato una probabilità del 10% a questo scenario e questo è uno scenario comunque che per me è negativo poi l'altro scenario che ho considerato è che ci sono nuove elezioni però stavolta il PD riesce a fare un governo da solo con quindi potendo esprimere una maggioranza unitaria con un leader forte che ovviamente c'è un leader potenziale del forte però non lo dirò qual è però potete immaginare e in questo caso questo è veramente l'unico scenario dove prevedo diciamo un certo impatto positivo nel breve nel medio periodo per il paese dal punto di vista anche economico e poi gli altri scenari sono una vittoria del centro-destra una vittoria del Movimento 5 Stelle che è in probabilità molto bassa e poi una ripetizione della situazione che è venuta a febbraio quindi molto negativa senza un dicitore chiaro dopodichè metto insieme tutte queste probabilità e utilizzo altri sistemi quantitativi per fare delle altre valutazioni e vengono fuori quattro scenari di situazioni macroeconomiche uno scenario che è lo scenario peggiore worst case scenario che noi chiamiamo panico poi abbiamo un base case scenario quindi uno scenario base che dividiamo in due sub-scenari uno che è chiamato differentiation e l'altro chiamato expansion e poi uno scenario positivo chiamato mania più che positivo uno scenario di non sostenibile troppo positivo per essere sostenibile il risultato è che la probabilità più alta che vedo in questo momento è nello scenario diciamo base però quello più negativo che chiamiamo differentiation e quindi diciamo le prospettive future sono da un punto di vista di un investitore non sono eccessivamente entusiasmanti in questo momento chiaramente bisogna considerare che questo è soltanto un modello diciamo chiamiamolo che viene utilizzato per guidare delle decisioni di investitori che guardano un certo tipo di imprese un certo tipo di di titoli su cui investire quindi chiaramente poi in dipendenza di quale scenario in effetti avverrà e si svilupperà chiaramente le condizioni potrebbero essere molto migliori o anche peggiori di quelle prospettate quindi in sintesi quello che volevo dire è che il problema uno dei problemi principali che ho visto che gli investitori esteri e i miei colleghi anche che che devono fare delle decisioni in termini di come strutturare il loro portfolio e di che peso dare all'Italia nel loro portfolio e uno dei problemi principali è appunto quello di di non avere la possibilità di di fare un assessment del rischio politico effettivamente che c'è nel Paese perché continuamente abbiamo una situazione che è troppo molto fluida e che e che non ti dà delle garanzie nel breve periodo quindi per esempio come diceva anche Gianluca se io per esempio sono un'azienda che sta pensando di fare un FDI in Italia e una delle cose che devo considerare è la possibilità che se c'è una recessione e sono costretto a diminuire il numero di lavoratori praticamente sicuramente data la legge attuale potrei non so quanto non poterlo fare in tempi brevi e rapidi ma anche se potessi riuscire a farlo dopo un certo numero di anni potrei essere costretto da un giudice a riassumere il lavoratore che ho dovuto che ho dovuto licenziare chiaramente questo non vuol dire che voglio avere la libertà assoluta di di licenziare persone a mio piacimento però avere una certezza che se c'è una causa civile o legale o penale poter avere un verdetto una risoluzione in un tempo ragionevole eccesso di burocrazia abbiamo detto ha una tassazione per le imprese che è molto alta e questo è chiaramente anche una cosa da considerare se sono un imprenditore perché chiaramente riduisce i miei margini e poi è stato detto molto in precedenza la la scarsa produttività dei lavoratori uno dei grafici che vedevo che ho visto recentemente è proprio riguarda la produttività nella nella Ocse di una serie di paesi tra cui l'Italia gli Stati Uniti il Giappone il UK e purtroppo l'Italia non solo è quello con la produttività più bassa ma anche è quello che nell'ultimo periodo ha avuto un trend negativo in termini di cambiamento di produttività le le cause per questo sono molteplici alcune sono state citate prima ma sicuramente la il sistema scolastico universitario che dovrebbe essere riformato la non solo per come funziona ma anche per incentivare le persone ad avere un una una formazione universitaria penso che soltanto imparare il 13 o il 15 per cento della forza lavoro ha un college di qui cioè ha fatto l'università in Italia quindi in America mi pare che sia il 25 20 28 per cento la cosa del genere per cui ci sono questi divari che chiaramente hanno un impatto sulla produttività poi lo scorso utilizzo di la scorso penetrazione delle di infrastrutture tecnologiche di IT nelle imprese anche la la penetrazione per esempio di internet o e-commerce nelle piccole imprese è molto bassa quindi tutti questi fattori diciamo hanno contribuito alla non solo alla crisi recente ma anche a questo trend che continua in cui come abbiamo visto prima la percentuale degli esporti globali delle imprese italiane continuano a diminuire e con tutte le conseguenze che poi si ripercuotono anche dal punto di vista sociale per esempio il tasso di disoccupazione che continua a aumentare e poi in ultimo il fatto che il questo questo trend del debito sul PIL che dovrebbe si sia cercato di mettere in controllo con tutte le misure fiscali che sono state messe in alto in realtà se si vedono i forecast di questo trend continuerà ad aumentare per almeno un altro uno due anni quindi raggiungendo 135 138 per cento e lì non si può pensare di diminuirlo soltanto agendo sul numeratore ma bisogna chiaramente agire sul denominatore e tornare a livelli di crescita ma non al 0,5 per cento che a quanto pare è il il livello potenziale adesso bisognerebbe andare al 2 per cento il che chiaramente è un il problema è come farlo senza riforme strutturali e quindi si ritorna di nuovo al discorso delle riforme strutturali e si ritorna di nuovo al problema della situazione politica e del rischio politico del paese con questo è concluso grazie applausi grazie 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 vabbè non so se ci sono domande curiosità io ho una domanda una domanda un po' per tutti per chi sarà sentito insomma di rispondere abbiamo visto che in Italia si parla tanto di politica di come l'Italia si stia rassistando in un'ottica internazionale come il suo sistema industrial si stia rassistando ma siamo in Europa ma si parla anche tanto di politica italiana che non è all'altezza una domanda è come voi ve la vedete una politica europea come possa aiutare l'Italia agli assestarsi completamente e se in sostanza ci sia spazio insomma per gli settori in cui l'Italia si sta diventando più forte come abbiamo visto c'è spazio in Europa insomma quando l'Italia perde costantemente contro i tedeschi perché perché il suo sistema bancaire non supporta cioè nel caso il sistema bancaire supportasse c'è spazio per tutti o no quindi in sostanza la competizione italiana all'interno del sistema europeo e qual è insomma il vantaggio positivo due cose bene che ci si è posto non c'è dubbio cioè la bellezza del commercio internazionale che non è una somma zero non è un gioco a somma zero nel senso che dal commercio internazionale tutti siamo infilati di guadagnare quindi e questo è vero anche per altro tipo di scambio quindi il posto non è dubbio il problema dopo l'altra domanda che mi c'era che cosa può fare l'Europa per l'Italia e qui la mia opinione personale che Italy needs tough law in questo senso che l'Italia proprio per i politici il sistema politico che ha che è assolutamente inefficiente inefficace ha bisogno di forti constraints dall'estero quindi l'Italia ha dato il meglio da quanto è parte dell'Unione Europea proprio nei momenti in cui è stata costretta dai partner europei a fare qualcosa di drastico questo è stato in passato ed era anche vero fino a quando Draghi il governatore dell'European Central Bank ha deciso di fare questa promessa in bianco di comprare qualsiasi titolo in caso di attacchi speculativi su uno dei paesi quindi dall'altro questa politica è stata ben accetta questa decisione di Draghi perché comunque ha carmato i mercati dall'altra parte e questo non è sfuggito a nessuno ha completamente tolto gli incentivi dei politici italiani questi guiri il presidente è finito tutto lo spread è tornato giù possiamo continuare a fare lo stesso che facevamo in passato questo è un problema fortissimo perché non c'è questo questo constraint secondo me sono d'accordo con Gianluca anche se vedi quello che ha fatto Monti durante la sua il suo periodo di prima ministro la riforma probabilmente più importante è stata quella del sistema pensionistico controversa comunque quella più effettiva soprattutto per il lungo periodo e in effetti il sistema pensionistico italiano adesso è uno dei più sostenibili in Europa se non il più sostenibile ed è stato fatto proprio all'indomani del periodo in cui l'Italia era proprio una crisi totale quindi c'era un senso di urgenza fra le riforme dopodichè da quel momento in poi anche il governo Monti piano piano ha fatto sempre sempre di meno e poi sono totalmente d'accordo con Gianluca che da quando Maria Draghi ha messo questo put diciamo sul mercato dicendo se ci sono dei problemi la ICB interviene e farà qualunque cosa per salvare l'euro da quel momento in poi si è ritornato al caos politico totale cioè non è stato fatto più niente piccoli interventi che però hanno poche poche effetti tipo l'ultimo che è stato fatto sul taglio del costo del lavoro ma insomma io non è che condivido pienamente questa visione questo non perché non creda che i vincoli europei non servono e penso anch'io che il meglio dell'economia italiana l'ha dato quando è stata sottoposta da alcuni vincoli probabilmente il periodo più significativo in questo è stato la convergenza separata dei rimastri però dobbiamo anche dire che la dose di austerità imposta all'Italia ed altri paesi nel 2012 è stata eccessiva quindi come dire per molti versi ha generato una reazione ha creato problemi di instabilità secondo me anche la scelta della politica monetaria europea di fare questo intervento era perché lì si stava creando una situazione più instabile insomma su questo non dobbiamo dimenticare nemmeno che ci stanno dei risvolti politici in Europa che possono rivelarsi abbastanza pericolosi però di opposizione all'euro la costruzione europea eccetera quindi su quello io invece un po' più di prudenza non mi sembra negativa le riforme del governo molti la riforma della pensione è passata senza poco ferire con un sostanziale anche accordo da parte dei sindacati poi con il tenevarsi interno un errore tecnico che ha diciamo riaperto quello degli istatati che ha riaperto le capi però diciamo quella che è passata la riforma sul mercato del lavoro è una riforma che non ha la stessa portata delle riforme di pensione anche lì è una riforma confusa piena di errori tecnici quindi il problema non è il venir meno del vincolo esterno in quel caso il problema è stato proprio se posso permettere di dire il venir meno della capacità del governo di proporre il riforme forse è difficile distinguere i debiti però diciamo una cosa è stata fatta bene l'altra è stata fatta con un problema sull'Europa resto convinto che comunque questi problemi debiti indebitamente eccetera non si esce senza crescita ovviamente possiamo decidere andiamo avanti controlli di austerità però insomma poi facevano tante greci tanti casi grecia insomma io non sono su questo non sono sicuro che poi quando una situazione del genere diventasse troppo diffusa sarebbe sostenibile da parte dell'intera Europa sono invece d'accordo su una cosa per quanto noi abbiamo contestato diciamo così in tempi non sospetti il modello tedesco cioè quindi questo ritorno a un modello fortemente concentrato sull'export led eccetera eccetera e che comunque creerà problemi nell'Europa non ultimo questo lamentazio che viene dagli Stati Uniti in questo momento perché poi quando un paese segue una politica mercantilista agli altri paesi a un certo punto hanno ragione di non so se hanno ragione però diciamo hanno un incentivo a protestare però è vero che dal caso tedesco ormai anche un paese come l'Italia deve mettersi in testa che deve imparare e quindi tutta una serie di cose che la Germania fa benissimo dobbiamo soprattutto nel sostegno nel sostegno all'industria nel sostegno all'esportazione nel sostegno all'internazionalizzazione e ora che ci mettiamo in testa dobbiamo cercare di imparare a farne la schiena e su questo la strada è ancora abbastanza lunga l'ultima cosa che vorrei dire mi sembra che tutte e due soprattutto gli interventi dei nostri discussi abbiano puntato il dito sull'instabilità politica o diciamo l'altro senso proprio sulla sulla volatilità delle decisioni politiche su questo noi condividiamo pienamente cioè la mia detto in parole un po' diciamo secche la mia convinzione è che in Italia ci sia un problema politico molto più grande del problema solo che appunto faccio l'episodista diciamo inoscenza della politica quindi la mia il mio intervento può arrivare fino a un certo punto però sicuramente aggiungendo forse a quello che avete già detto voi è che il problema della politica come ora è che perché per molti versi pervade anche il modo di operare delle imprese c'è questa sorta di contrattazione politica che c'è ormai purtroppo ha un po' appunto per base il comportamento delle imprese che non è raro in Italia in cui l'impresa si rivolge più che al mercato il che era così ancora una volta con localismo con regionalismo eccetera questo è diventato ancora un fatto di rapporto forse a me resta il compito di rispondere a un punto sollevato nella discussione che è un punto importante vale la pena provare a discuterlo ancora questa faccenda del negativo quello che io ho detto non andava inteso nel senso di negare l'importanza del problema il problema c'è le ragioni sono tante incluse quelle immunicate dal discassa e vanno affrontate una per una la mia osservazione era soprattutto rivolta a polemizzare contro chi riduce tutto quanto esclusivamente al problema del danismo e ne ricava poi come ricetta principale di politica industriale due cose vengono fuori o incentivi fiscali per favorire le pensioni oppure questo per me se ormai logono ritornello secondo il quale le imprese devono imparare a fare rete che non capisco più che cosa significa e che anche questo genera spesa pubblica perché poi per favorire queste e questo io mi sono stancato di sentire i consorsi all'export e tutto quello che ci gira intorno allora preferisco dire siccome ci sono tante piccole imprese che ce l'hanno fatta e ce l'hanno fatta bene malgrado i vini compresa la tecnologia tutto sommato se è il secondo produttore mondiale vuol dire imprese grande non tanto quanto la numero uno ma insomma non si può essere non si possono vincere tutti i campionati io ricordo sempre mi è capitato in passato adesso chiaramente è un modello che va un po' ripensato ma quando presentavo il modello dei distretti industriali italiani che sono un altro modo di crescere facevo vedere dei dati in particolare uno ricordo perché chi si avvicina la prima volta ai distretti industriali legge dei nomi di luoghi che nemmeno si sa bene dove stanno sulla carta geografica italiana qualche volta forse Sassuolo qui in giro tutti sanno dove sta ormai però quando io lo incontrai la prima volta nemmeno sapevo dove stesse Sassuolo il distretto di Sassuolo nel settore della ceramica faceva nel 1996 vado a memoria ma sbaglio di poco il 25% delle esportazioni mondiali trovate una multinazionale con una quota di questo genere è un altro modo adesso ci sono problemi è arrivata la concorrenza cinese e le piastrelle di Sassuolo adesso stanno vivendo questo è anche lì ci sono le medie imprese emergenti che vanno bene ma noi figuriamoci ho fatto vedere grafici con tutto quello che sta succedendo in questi settori però ripeto io credo che si debba lavorare sulla qualità delle risorse delle imprese che vengono state all'interno delle imprese dopodiché grazie alla concorrenza internazionale le piccole imprese diventeranno medie e grandi tutto il resto va affrontato ma insomma mi spaventa soprattutto la semplificazione eccessiva che c'è dietro questa idea del malissimo poi sulle altre cose sul ruolo dell'Europa sono totalmente d'accordo per quanto riguarda il vincolo esterno e la sua importanza credo però che dovremmo abituarci a ragionare anche su che cosa può fare l'Europa insieme non per l'Italia o per la Grecia ma tutti insieme per creare condizioni più favorevoli alla crescita in una situazione normale cioè non di emergenza finanziaria come quelle che abbiamo attraversato e lì secondo me un po' di coraggio in più dal lato delle politiche della domanda ci vorrebbe soprattutto da chi ha la situazione macroeconomica per rilanciare la domanda per tutti si stiamo a buon tempo però mi fa piacere discutere grazie a tutti grazie grazie grazie